yugio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con la banda di lista ragazzi non me ne frega niente di sponsor o cose del genere trovate tutto in descrizione detto questo grossa grossa vediamo non so non so cosa dire andiamo a vedere io sono curioso sì speriamo che come in ocg speriamo che la nostra banda ocg io spero solo max c come si è detto come tutti hanno detto nel corso dell'ultimo periodo sarebbe bellissimo è bestemmio perché dico sempre adesso me lo recupero in vista della ban e poi non lo faccio allora andiamo subito ecco già vedo cose belle già vedo cose belle che significa falce falce a zero e si gode falce a zero e si gode ma pensavo avendo levato e no lo sapevo tra lui e l'ixis dovevano toccare lui per forza perché altrimenti ci sarebbe stato qualche altro casino qualcosa che lo riportava mi stanno chiamando per la ban e vabbè stato statua valese statua è offratemi ingiustamente incarcerato no cazzo io devo ancora vendere la carta che portava statua che merda mi sono dimenticato voglio meta voglio meta via voglio via no max è ancora qua porca vabbè niente anche a sto giro si fa per la prossima ban e va bene vai piano vai piano vai piano no l'ho visto che callos callos via e si gode si gode e niente già vedo che c'ha tier che lo prende e lo butta dentro il cestino lo straccia no o c'ho una c'ho il tipo dei portore canati si era comprato tier tipo tre giorni fa gli sono arrivate oggi le carte rip rip it callos via e dai già sono soddisfatto già ti dico che sono soddisfatto così potrebbe chiudersi qui per me la ban sì ho visto no c'era lunga era lunga la bannate era lunga ok vediamo no ma che cazzo dici no 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 e muore così il video della combo trivrino è ancora prima di registrarlo io non l'ho venduto perché dovevo far il video porca troia e ho comprato un elf a caso 20 euro buttati via mamma mia Elf bannato è pesante Questo non me l'aspettavo Tanti l'avevano messo in ban Però io pensavo che No, non adesso Che alla fine non ci andasse subito Sì, io già sono stremate Siamo alle bandite Mamma mia Devastante Master Shock ancora qua Passiamo alle magie Niente di che Mystica ancora lì, giustamente Sarebbe stato il colpo Toglie Mina e così Mina torna uno Finita Penso che già hanno fatto da Eh vabbè sì Bene E una è andata La prima Piano Vai Agito Ok Ok ci sta Va bene Anche se adesso senza più No, meglio le valli Sì sì Che poi non stavano più a un cazzo Quindi Ancora niente Piangere ancora tutto lì Killback Killback Tutti 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 fuori dalle palle Che goduria Anche Mudora Ecco Tutti Va bene Ok Ciao Sì abbiamo Va bene Il meta è un altro È castire Castire a turbo Sì Cioè Secchi così Bene E suppongo che non c'è più un cazzo E invece Ah Dai sì Dai Dai Qui c'è sta Qui c'è sta il meme Quello lì che ha scritto Stop it Is already dead No ma Cioè Chi gioca a tear Ha smesso di giocare Sì Palese È insalvabile il mazzo È insalvabile Ce n'è un'altra Pure Mary Tutto Ma dai Ha ne fatto tipo Elemental Dragon Hanno tolto tutto Ma cazzo Basta vedere in Giappone Cosa è successo Hanno limitato tutto Sì che era ancora Sì No no hanno detto Poi il mazzo Non c'è neanche un anno Per capire quanto è forte Starchetipo C'è un altro tier sotto Comunque Shader Dai Su Via via Fai dalle palle Ok poi A me sembra Alcuni di questi Dovevano far super Nell'OTS O me sbaglio Ah non mi ricordo Eh vabbè direi che È finite Antico Drago Fatato Antico Drago Fatato Ok ci sta Sì ci sarà detto Mi sa che qualcuno L'ho venduto allora Dopo voglio aprire il car market E vedere che cazzo sta succedendo È finite È stato un po' un colpo Ammetto che Non No Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Adesso un trick Qualcosa incredibile Che esce Ci sarebbe Dai Piano eh Semillimitate niente Un cazzo Qualche unlimited figa Penso ci sia Destrudo Chi è? Lui Non lo conosco Mai visto? Stava in band No Poi Jet Synchron Vabbè tanto non c'è più A chi Files Sì Vabbè o Leone Sempre perché non c'è più A chi Vabbè sì Vabbè questo Sei mancato Non lo ricordo No si giocava in true dragon Yata grasu Va bene Yata Vabbè Yata rock Servitore di endymion Cosa faceva? Eh boh Qualcosa con i pendoli Ok Resort spiral Viral Sì Sì la magia Con T La magia Vabbè ci sta E basta Ma Sì non so Non so che pensare E niente Si gode Abbiamo Toccato l'uccellini Allora Alla fine Farà qualcosa lo stesso Secondo me non è morto Senza statua No no Flander continua a vivere tranquillamente Flander sì Senza problemi È Tyr che c'ho qualche dubbio Su La riuscita Il funzionamento Il funzionamento del mazzo Guarda Sto sicuro Conoscendo La gente schizzata De testa che lo gioca Che qualcosa Tirane fuori lo stesso Però Si vuole non sarà più Meta come prima Per vide Andiamo un attimo Un secondo su car market E vediamo che sta succedendo Sì Che coglioni car market Che sito de merda Comunque la gente Si sta schizzando de prezzo Si Sta schizzando de testa Perché ha già comprato Ferrid Perché ha capito che Ops Mi sa che si gioca quello Sono contento Almeno Bello Hanno levato un problema Veramente grosso Al gioco Cioè Praticamente Com'è che si chiama Tyr Se sarebbe fuso anche con Cach Tira Ma che senso c'ha Cioè Ormai è l'unico mazzo Che gira In mille modi differenti Sono contento Sono contento Sono molto molto contento Della ban Tyr aveva Rotto le scatole Fuori dalle palle Oh ma Cioè Tiravi in catena Tu Cioè Cioè Giocavi nel turno tuo Nel turno avversario Capisci che Non si può giocare così A Yugi Adesso voglio Flander Fuori dalle palle Perché quello Un altro masco Mi ha rotto veramente Le scatole Deve dirlo Non c'è la statua Dovremmo essere Indicativamente A posto Sicuramente Meglio Rispetto a prima Ma è comunque Una bella rottura del cazzo Perché Comunque sia Cioè Ancora lì So Abbastanza convinto Aspetta Ecco Questo tipo Mi ha messo due ferri Nel carrello Brutto coglione Allora Vediamo un attimo Antico Drago Fatato È l'unico che è uscito Dalla banner Giusto? Sì Allora Vediamo Questo Allora Sette euro Vabbè Pensavo Vabbè Niente Pensavo fosse salito Di più Va bene E niente Adesso Bello Prepariamoci il monomeda Castira Palese L'unica Adesso L'unica cosa che dovremmo sedare È Book of Eclipse Pensiamo solo a quello Adesso Sto contento più che altro Perché Visto che Tyr è Ufficialmente morto Si Tornerà a giocare Il meta Delle hand trap Si Perché tanto Bisogna vedere Contro Castira Cioè Quanto Impatterà Quanto si giocherà Nel Nel meta Perché un conto Giocarlo con I Tyr Un conto Giocarlo puro Giocarlo puro È forte Puro Il problema è che Quante volte Riuscirò a fare La giocata completa Con Ti blocco Tutte e 5 le zone E in quel caso Dopo Ti basta Monocarta Per Se O se tappa tutto Anche un buco nero Un regecchi Se giocherà di nuovo Lightning Storm Poi Ti rimane quel figlio di puttana In campo Che te continua a bloccare le zone Però vabbè Nel senso Puoi utilizzare La palla di Ra I Kaiju Golem Di lava Cioè L'alternativa è sottante Sì Assolutamente Sono È cascata un po' Come Fulminus Cialzerieno Ma Bella Anche perché Non me l'aspettavo Cioè io ero convinto Tutti quanti dicevano Che sei uscita adesso La Banned Pensavo che Invece Visto la miniband Emergenza Ci avrebbero fatto aspettare Un po' di puttana Boh Siamo già a febbraio Miniband Emergenza Era a dicembre Cioè È volato È volato È volato Sì Più che altro Te ti aspettavi qualcos'altro Io Sono sincero Ma aspettavo Probabilmente Una toccatina Un po' più grande A Flander Non tanto perché Lo necessiti Non perché sia un mazzo Troppo forte Ma per il fatto che È un mazzo Che è vecchio Cioè È un mazzo che Continua a fa meta E Sta comunque sempre in top E È parecchio Che c'è in giro Solitamente Konami Non gli piace I mazzi vecchi Che stanno in top Normalmente È capitato nel corso Degli ultimi anni Che quello che venisse toccato Era Quello Che non c'entrava col mazzo E che lo rendeva forte E poi Il mazzo finiva Nel dimenticatoio Tipo Protoss Per Per Svorsal Oppure Anche Come si chiama Quelli Xyz Rankot Che poi è stato Che si giocava in In virtual Non era Destruto Vabbè Praticamente Sono tutte carte Che non c'entravano Un cazzo col mazzo Che lo rendevano Cioè Troppo più E poi i mazzi Con l'uscita Delle Delle espansioni nuove Finivano per essere Dimenticati E non giocati più Infatti Se tu ci fai caso Della roba vecchia Niente È imbanned E Praticamente Hanno fatto la stessa cosa Con Con Flander Ma aspettavo Più che altro Venisse toccato Venisse toccata Anche la trappola Delle RP No Quella no Eh ma ti fa switch A un turno Sì Sì No è fortissimo Però Non è così tanto Giocata Spesso anche Flander La mette dei side Sì Cioè Non è una carta Che se tegliela togli Non gioca più il mazzo Perché va toccata Necessariamente È una carta fortissima È una carta forte Che In determinati periodi Del gioco Potrebbe dare problemi È come falce Falce Attualmente Quanti problemi dava Cioè Ne dava Però Molti meno di prima Perché comunque Non c'era Non c'era più la combo Che la spaccava Era con Con Enforzer C'era la trappolina Che la giocava Non lo so C'è Santum Vabbè comunque Per dirti Falce era un problema Cioè Non era tanto La carta che lo portava Perché alla fine Se toglievi quella Prima o poi Sarebbe uscita Un'altra carta Che portava falce E Il casino Succedeva di nuovo Più che altro Me lo aspettavo Tipo Tipo 20 ball NED fa Sì Adesso sono curiosissimo Di Sprite Sprite Come reagirà? Muore totalmente? Forse no Muore tantissimo Cioè Ha perso Tanto Tantissimo Però non so Se muore O sulla gente Riesce a inventarselo No Sprite Sì Alla fine Ok Elf Carta fortissima Per il mazzo Però Nel senso Se paragonato A tutto il resto C'è Tier Che è tutto il resto Si ritrova A poter giocare Praticamente Il 90% Del suo mazzo Rispetto a Tier Che non so Cosa gli è rimasto Sì No niente Tier Giochi tutte monocopie E dovrà ibridarlo Per forza con qualcosa Perché pure Non esiste Ah Con la carina Ho notato Sbaglio Rhynoheart Non è stato toccato No Non è stato toccato Rhynoheart Sai perché? Perché vogliono Spingere il mazzo Quello nuovo Manadome Che si giocherà a Rhynoheart Sì Perché è il mazzo Che è tutto basato Sui mosti Che hanno Tipo 1500 2100 Ah ok Cioè Ci può sta come cosa Sì Quello Sì Ci sta E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre Vi sia piaciuto E fatemi sapere Voi cosa ne pensate Della banner di list Ma Nel senso Penso che Noi siamo messi Peggio dei giapponesi A questo punto Cioè se Da loro hanno distrutto Tutto qua Neanche Il covid Ha fatto una strage Così grossa Detto questo Vi ricordo Visto che prima Non abbiamo detto Che questo video Come tutti gli altri Sono sponsorizzati Da magic corner Quindi se vi serve Il prodotto sigillato O carte singole E trovate il link Del loro store Qua sotto in descrizione In più Se avete tier Da vendere Oppure Flander O anche sprite Tipo siete pieni Di questi elf Di cui non ve ne fate Più niente Vi ricordo Che qua sotto In descrizione Trovate il mio instagram Contattatemi E nel caso Se avete cose Qualcosa interessante Ritiro praticamente Compra tutto In cambio di denaro Potete scegliere voi Il gioco di carte preferite Perché prendo tutto Da Digimon Compreso Ho detto Sono partito da Digimon Fino a Yu-Gi-Oh Quella la cosa Più importante E Ah anche One Piece Perché non ho ancora fatto Nessun ritiro di One Piece E Ci sono delle carte manga Molto belline Detto questo ragazzi State me easy E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti